Musica Buon poveriggio, bentrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Il caso della scomparsa della piccola Cataleia a Firenze, arrestato lo zio per l'aggressione all'ex hotel Astor, perquisiti genitori ed altri ex occupanti per trovare tracce della bambina. L'operazione compiuta all'alba è un passo avanti nell'indagine sul sequestro a scopo di estorsione della bambina peruviana di 5 anni. Quattro persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Firenze nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola Cataleia Alvarez. Tra le persone arrestate anche Abel Alvarez, lo zio materno della bambina rapita, gli arrestati sono indagati per una serie di reati commessi all'interno dell'ex hotel Astor, edificio abusivamente occupato dove Cata viveva con la madre e il fratello. I reati ipotizzati sono quelli di estorsione e di rapina commessi tra il novembre 2022 e il 28 maggio 2023, nonché di tentato omicidio e lesioni gravi commessi lo stesso 28 maggio 2023 ai danni di occupanti abusivi dell'ex albergo. I reati sarebbero stati commessi nel quadro di un'illegittima attività di compravendita del diritto di occupare le stanze dentro la struttura alberghiera. I quattro indagati il 28 maggio, nell'esecuzione di un raid punitivo nei confronti di più occupanti dell'hotel Astor, hanno fatto un primo pestaggio con una mazza da baseball minacciando di morte una coppia se non avesse lasciato la stanza. Dopo essersi allontanati per qualche istante, gli aggressori sono tornati incappucciati nella stanza della coppia e dirigendosi minacciosamente verso l'uomo un equadoregno che per timore di essere ucciso si lanciò dalla finestra riportando gravi ferite. Sono stati perquisiti i genitori e altri ex occupanti per trovare tracce della bambina. Ladri nel mirino dei carabinieri di Arezzo, in un caso un 43enne è stato sorpreso dai militari subito dopo essersi in possestato del denaro custodito in una borsa riposta all'interno di una auto parcheggiata. Il ladro aveva infilato la mano nel finestrino approfittando del fatto che era mezzo aperto rubando dal borsello 100 euro che è stato recuperato e restituito. Analogo epilogo per un 62enne che all'interno di un supermercato ha picchiato un addetto alla vigilanza che lo aveva fermato per chiedergli conto della merce che aveva trafugato. L'uomo è stato arrestato per tentata rapina impropria. Infine avviso di conclusione delle indagini ai danni del presunto autore di quattro furti e una rapina avvenuti nel periodo natalizio ad Arezzo ad altrettanti negozianti del centro storico. Ora l'uomo è in attesa di processo. Oltre 200 operatori e caso raro per l'edizione agostana dell'antiquaria anche spuntisti. Il fresco di questa perturbazione aiuta la fiera e i moltissimi turisti stranieri girano volentieri tra i banchi e la città. Sono 204 gli operatori in questa fiera d'agosto che quindi parte abbastanza bene visto che di solito negli anni passati i numeri dei banchi soprattutto nelle fiere d'agosto era decisamente ridotto. E poi ci sono 5 spuntisti, è la prima volta che succede in una fiera d'agosto. Tantissimi turisti, vediamo, ascoltiamo non solo i turisti ma anche gli operatori del settore. Questa forse dipenderà dal tempo che si è raffrescato però ho visto che ci sono tutti, sono tutti presenti tutti gli espositori e ho visto anche un bel pubblico di gente che è arrivata, specialmente stranieri, che vengono romani, ho visto anche giù dalle marche. Perciò si spera che domenica sera se il tempo ci assiste sarà una fiera discreta diciamo. Perché Arezzo per te come destinazione? Cercavamo un luogo carino per la vacanza, siamo un gruppo di amici, volevamo stare in un luogo bello e non caldo e così siamo in un agriturismo qui vicino e siamo venuti appena oggi, appena arrivati per la fiera antiquaria. Sto già vedendo questa mattina tanti tanti turisti, si sentono a parlare olandese, inglese e americano, è un bel inizio per il momento. E' bello, è antico, si è la prima volta per noi qui ad Arezzo, il tempo che per noi è freddino, per me è fantastico perché non sopporto il caldo, questa è la giusta temperatura. Ho saputo della fiera da un amico cinque anni fa e siamo venuti per la prima volta nel 2020 e da allora ogni anno torniamo. Gente ce n'è, di solito comunque Arezzo paga sempre perché c'è un continuo cambiamento di persone, di turisti e sì, è un mercato di quelli che mantengo. Stiamo scoprendo Arezzo, è una bella città e soprattutto è bello girellare tra i banchi dei rigattieri e gli antiquari, è molto carino. La questione relativa ai cattivi odori di San Zeno continua a provocare disagi nella zona limitrofa all'impianto. C'è un'altra questione che tiene banco in questa estate che è quella dei cattivi odori, è tutta una zona piuttosto vasta da San Zeno, Battifolle, insomma ecco come sta andando? Sì niente, la situazione è sempre la stessa, è sempre peggiore anche se nelle dichiarazioni degli amministratori eccetera, però il miglioramento sinceramente non c'è assolutamente. Anche questa notte è stato impossibile aprire le finestre, stare fuori, dar da mangiare al cane, annaffiare un vaso, un fiore, era impossibile vivere dal cattivo odore. Tra l'altro sono cattivi odori altamente tossici, dopo averlo segnalato a tutte le autorità, lo dichiaro anche qui. Ci sono studi che certificano che le emissioni dei materiali in putrefazione sono tossici e provocano tutta una serie di malattie molto gravi, alcune anche arrivano fino al tumore, chiaramente in base alle concentrazioni. Chiaramente se l'impianto funzionasse non emetterebbe concentrazioni bassissime senza che si potesse avvertire l'odore né in prossimità né in zone distanti. Dato che si sente un pulso fortissimo in zone distanti, immaginiamo che la concentrazione di queste sostanze sia elevatissima. Cosa avete fatto finora? Avete lanciato l'allarme e le risposte? Ci sono state delle interrogazioni comunali, anche all'ultimo Consiglio Comunale c'è stata la richiesta di un Consiglio Comunale aperto che è fissato per il 21 settembre prossimo. E quindi confidiamo che ci sia anche una partecipazione da parte delle numerose persone coinvolte dal problema e che soprattutto ci siano delle risposte concrete da parte dell'amministrazione per risolvere questo problema. Però intanto l'estate passa così? L'estate passa così. Prosegue il lavoro del Presidente del Consiglio regionale della Regione Toscana all'interno del Comitato Europeo delle Regioni ad ottobre, la settimana delle Regioni e delle Città. Dallo scorso 19 gennaio il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è stato eletto nel Comitato Europeo delle Regioni. Politiche di coesione territoriale, bilancio dell'Unione Europea e politica economica, questi i temi dei quali si occupa il Presidente dell'Assemblea legislativa toscana. Nello specifico ad Antonio Mazzeo è stato affidato il compito di redigere il parere sulla concorrenza. Quando parlo di concorrenza, quando parlo di aiuto di Stato, parlo anche di distorsione del mercato, se si tira troppo da questo punto di vista si rischia di favorire quei territori, penso alla Germania o alle imprese che operano in quel territorio, che hanno più fiscalità, più capacità fiscale, hanno più possibilità di sostenere le imprese. Il mio compito è di portare la voce della Toscana, di farlo con forza in quel luogo e di fare in modo che questa distorsione non esista, che ci sia la possibilità per tutti di avere gli stessi diritti e di poter competere allo stesso modo. E poi a ottobre sarà la settimana delle regioni e delle città, sarà un momento bello, importante, tante realtà toscane ci saranno, io sarò al loro fianco ad accompagnarli perché l'Europa è il luogo delle opportunità, l'Europa è il luogo in cui si può costruire per i nostri cittadini un futuro migliore. Lo sport a Sansepolcro, gli arbitri non si presentano, hanno un lato il triangolare tra Arezzo e Francavilla. La terna arbitrale non si presenta e il triangolare è stato annullato. A Sansepolcro avrebbero dovuto affrontarsi i padroni di casa, l'Arezzo e la Virtus Francavilla, società di Lega Pro in ritiro proprio in Valtiberina. L'assenza del direttore di gara e degli assistenti di linea ha però impedito alle squadre di scendere in campo e dopo tre quarti d'ora di attesa e verificata l'impossibilità di reperire un'altra terna arbitrale è stato comunicato agli spettatori che potevano uscire dallo stadio e lo hanno fatto dopo essere stati immediatamente rimborsati del biglietto di ingresso. Da chiarire ora le circostanze che hanno causato questo contrattempo. La società bianconera ha parlato attraverso il suo presidente che ascoltiamo, Giorgio Lacrimini. Ma fondamentalmente non sono arrivati gli arbitri, giustamente abbiamo preso atto di questa cosa e nei prossimi giorni approfondiremo tutte le cause e i motivi. Dispiace perché poteva essere una bella giornata di sport con due formazioni professionistiche e dispiace soprattutto per il pubblico che era intervenuto numeroso. Prendiamo atto di questa cosa e come ripeto noi da parte nostra abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare a livello burocratico, a livello amministrativo e a questo punto ognuno prenderà le proprie responsabilità. Insomma una Serie D che sicuramente non comincia nel migliore dei modi anche perché è arrivata la voce ancora non ufficiale che il campionato di calcio di Serie D che avrebbe dovuto cominciare domenica 3 settembre potrebbe slittare di una settimana a domenica 10 settembre per i numerosi ricorsi che saranno da esaminare proprio intorno alla fine di agosto. Staremo a vedere. Questa sera su Teletruria dopo il telegiornale delle 20 e 30 potrete assistere al film Bulli a metà commedia con protagonisti Davide Mogna anche regista della pellicola Lorenzo Rubefatti e Virginia Riolfo farà seguito VO7 Magazine che ripercorre i principali avvenimenti della settimana alle 23 consueto appuntamento con in compagnia di Alessio. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.